Amici buongiorno, ben ritrovati, sempre con il sorriso ci vogliamo ritrovare, questa nuova puntata di Aspettando Degni di Nota, 14.30 su Teleromagna, Canale 14, la nostra replica al mattino alle ore 10.45, come va ragazzi? Tutto bene? Ma sì, dai che la facciamo andare, come dicevano una volta, ma sì, la scuva, la scianandè e anche noi cerchiamo di farla andare. Allora anche oggi abbiamo un po' di musica da portare nelle vostre case, al vostro ascolto, i nostri ragazzi, allora partiamo subito, Michael Castellani ci ripropone una delle sue grandi canzoni che ha portato a Degni di Nota nella stagione 18-19 e poi torniamo qui in studio. Vai Michael! It's only on his nation, but you can see it's blessed. It's nothing but some feeling, it's all I don't get good. It's been really since you left me, and now I'm driving in the floor. It's even one who's been a fight, but without you I give up. I can see a love song like the way it's meant to be. Well I guess I'm not that good anymore, but baby that's just me. Always and I will love you, baby. Always and I'll be there forever and every day. Always and I'll be there forever and every day. Always and I'll be there to be. And when the stars don't shine until the stars don't shine until the light has borrorts, and the words don't rhyme. And I know when I die, you'll be nailed olmayed. And I'll love you always. Grazie a tutti 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 E se